Un vero e proprio tsunami sconvolge la City londinese. Lo scandalo al Libor al centro di un'inchiesta penale promossa dall'ufficio britannico che si occupa dei reati finanziari sulla manipolazione dei tassi interbancari. È la prova della gravità della situazione che sta mettendo a dura prova i nervi dei trader più agguerriti sulla piazza di Londra. La truffa, che per il momento vede coinvolta solo la banca Barclays, è mondiale e massiccia. Grazie a tutti.